Buonasera a tutti ragazzi, oggi togliamo alla chiesa di Storaco Lazzano, dobbiamo conciugare le tre campane, ora difendiamo questa altra messa di sapere mezza, ogni tanto tempo lo faccio vedere, presentare i campanoni, l'altra mezzana, l'altra mezzana, ora sopra la campana sul tetto, l'altra campana nuova, questo tre punti è a plenum, questo è un porto l'ominitano, allora il sottocento è la terza campana, su vai, ora difendiamo le campane della messa di sottocento, quindi a presto e la guarda campana amica 8, buonasera a tutti, ciao! Ecco lì! A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.